e ciao a tutti ragazzi qui è mattia e bentornati in questo nuovo video da circa un mese sono il felice possessore di un mac mini m1 e oggi in questo video andremo a vedere le mie considerazioni dopo il primo mese di utilizzo prima di continuare però ragazzi vi chiedo di supportare il canale iscrivendovi mettendo like a questo video e per il resto buona visione dunque dicevamo tutti online e su youtube sono in fermento per il nuovo processore di casa apple infatti sui nuovi mac mac mini e macbook air apple ha installato il suo processore fatto in casa ossia l'apple silicon m1 abbandonando di conseguenza intel e segnando un punto di svolta epocale devo ammettere ragazzi che la presenza di questo nuovo processore è stato il motivo principale che mi ha spinto ad acquistare questo dispositivo sebbene era risaputa la potenza e la capacità di apple di ottimizzare la comunicazione tra hardware e software ho anche pensato che con un processore proprio fatto da loro le cose sarebbero ulteriormente migliorate e quindi ho preso la palla al balzo e non me lo sono lasciato scappare io da diverso tempo sono un utilizzatore di iphone e di molti dispositivi di casa apple come apple watch ipods ipod e quindi mi mancava diciamo un computer di casa apple e visto che mi sono sempre trovato benissimo con l'integrazione e con la potenza che hanno e la semplicità di utilizzo di questi dispositivi questo mac mini è stata la ciliegina sulla torta ovviamente prima di acquistarlo mi sono documentato come meglio potevo online in maniera tale da evitare di acquistare anche i primi modelli in modo tale anche da non incappare in problematiche dovute a problemi di gioventù del sistema e anche dei dispositivi ho letto e guardato moltissime recensioni su questo su questi nuovi computer e su questo nuovo processore in particolare e nella maggior parte dei casi il processore m1 batte la maggior parte dei computer mac che montano intel e ciliegina sulla torta costa relativamente poco infatti il modello che acquisto io ossia il modello da 8 gigabyte con 256 giga di ssd costa poco più di 800 euro non è poco però rispetto diciamo alla media dei dispositivi apple diciamo che è abbastanza economico su retro possiamo trovare due porte usb di tipo a due porte usb di tipo c thunderbolt 3 abbiamo una connessione per la rete dati abbiamo l'ingresso per l'alimentazione e il jack per le cuffie ovviamente anche c'è il tasso di accensione e anche la presa d'aria per la dissipazione del calore l'ho acquistato ragazzi principalmente per un paio di motivi il primo devo ammettere mi piaceva tutti mi hanno sempre parlato bene dei computer apple e dato che non ho avuto l'occasione ho preso la palla al balzo e non me lo sono lasciato scappare il secondo motivo per cui ho acquistato è la necessità di avere un dispositivo che mi permette di editare i video senza compromessi e nel minor tempo possibile perché va bene che i miei video fanno cagare però hanno anche loro bisogno il tempo per essere editati e montati dunque arriviamo quindi alle considerazioni dopo il primo mese di utilizzo certamente ragazzi questo computer è veloce è una scheggia è micidiale però sinceramente mi sarei aspettato un qualcosina di più ma non tanto per come è stato presentato da apple ma più che altro per come è stato recensito nei vari blog e su youtube tutti ne parlavano come se fosse il computer da battere per carità per il mio caso è fin troppo nel senso io non riesco neanche minimamente a metterlo a dura prova infatti ogni volta che provo diciamo a stressarlo anzi rimango senza parole quindi sicuramente è veloce però da come ne parlano online sembrava proprio una roba stratosferica quindi diciamo che c'è ancora molto margine di miglioramento secondo me comunque per un come un utilizzatore di computer windows passare ad un dispositivo del genere sicuramente noterà la differenza e ne resterà sicuramente colpito un altro aspetto che mi ha lasciato piacevolmente colpito in questo mac mini è la presenza di casse audio sinceramente non mi sarei aspettato di trovarle non so per quale motivo mi aspettavo che fosse senza audio o meglio senza le casse sicuramente non è da paragonare alla qualità audio di un macbook air o di un macbook pro però diciamo che in mancanza di altro vanno pure bene come si dice no in mancanza dei cavalli trattano anche gli asini il terzo motivo che mi ha lasciato piacevolmente sorpreso è la sua silenziosità il mac mini ha una ventola per affreddarsi però non sono mai riuscito a stressarlo così tanto da sentirla accesa quindi i casi sono due o è rotta e mio dio spero di no oppure cosa molto più plausibile ce ne vuoi davvero tanto per metterlo in difficoltà quindi ricapitolando i punti a favore di questo mac mini cosa sono beh sicuramente il prezzo la sua silenziosità e ovviamente la sua velocità a parte il primo gli altri due sono elementi molto caratteristici di casa apple il primo diciamo che è un punto a favore per noi consumatori ossia quando si può risparmiare qualche soldo male non fa purtroppo ragazzi non è tutto oro quello che luccica infatti anche il piccolo di casa apple ha i suoi problemi come vi ho detto ho aspettato qualche mese prima di acquistarlo proprio per aspettare di evitare di prendermi i primi modelli perché risaputo che diciamo possono presentare delle problematiche che nel corso del tempo vengono risolte anche con gli aggiornamenti di vari sistemi operativi il primo problema che ho riscontrato è la presenza di puntini rosa sullo schermo al momento dell'accensione durano qualche secondo e poi spariscono online li potete trovare anche come pink square se dovete cercare come risolvere questo problema comunque questo problema a me pare essersi risolto con l'ultimo aggiornamento di big sur quindi questo problema non sussiste questo problema è dato dalla connessione dello schermo tramite cavo hdmi se doveste connetterlo invece tramite le porte thunderbolt 3 non dovreste avere problemi o meglio così ho letto online però fortunatamente io questo problema l'ho risolto aggiornando il sistema operativo quindi un problema che non si pone il secondo problema che molti lamentano online è una problematica che fortunatamente non affligge il mio mac mini ossia la problematica con la scheda wifi infatti in alcune situazioni il mac mini perderebbe la connessione internet anche per diversi secondi quindi rendendo impossibile la navigazione o comunque sia il lavoro in cloud però come ho detto fortunatamente il mio mac mini non presenta questo problema quindi tanto di guadagnato il terzo problema invece ragazzi affligge il mio mac mini e mi fa davvero incazzare proprio perché certi problemi in casa apple non dovrebbero esistere il mio problema principalmente nasce dal fatto che connetto mouse e tastiera wireless tramite la classica pennetta e ogni tanto capita che perde il segnale e ristando bloccato e non potendo fare nulla proprio perché non hai contatto con il col dispositivo per diversi secondi ovviamente è una cosa molto molto fastidiosa online molta gente riscontrano questo problema analogo con i dispositivi bluetooth quindi di conseguenza quali senza la pennetta navigando online e cercando la soluzione a questo problema molti dicono che si risolve sempre con l'aggiornamento del sistema operativo ogni volta però il sistema operativo viene aggiornato alla nuova versione e a me il problema persiste speriamo che la prossima volta sia la volta buona dunque a la tastiera con layout di windows sicuramente non aiuta molto bene ragazzi siamo giunti al termine di questo video spero che sia stato interessante per qualcuno se si fatemelo sapere nei commenti e fatemi sapere se voi avete acquistato uno di questi nuovi dispositivi e se riscontrate anche voi queste problematiche o se ne riscontrate delle altre intanto mettete like a questo video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video ciao